Tra le letture di oggi vorrei cogliere una suggestione pedagogica per me particolarmente interessante questa volta dalla seconda lettura dalla prima lettera di Pietro in cui ci sono perlomeno due passaggi che sono per un educatore per un insegnante particolarmente significativi il primo passaggio è una frase particolarmente conosciuta e particolarmente utilizzata carissimi adorate il Signore Cristo nei vostri cuori pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi questa immagine del saper rendere ragione e qui stiamo parlando della speranza di Cristo che è in noi in qualche modo è un compito importante per ogni educatore per ogni insegnante non nel senso che l'educatore l'insegnante deve ostentare le proprie certezze quasi sbattendole in faccia alle persone ma nel senso che deve percorrere il proprio cammino e guidare su quel cammino le altre persone avendo la capacità non solo di essere convinto di quello che fa ma di rendere ragione rendere ragione di quello che chiede anche agli altri di fare per seguirlo su questo cammino vi è sempre nella lettera di Pietro anche un secondo passaggio che trovo particolarmente interessante e importante per un educatore per un insegnante leggiamolo insieme tuttavia questo si è fatto con dolcezza rispetto con retta coscienza perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati coloro che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo e quindi questo senso tutto questo si è fatto con dolcezza con mitezza proprio non solo per non dare occasione ai maligni di sparlare di noi è bella quella immagine ogni tanto in qualche modo sarebbe confortante per noi anche sperimentarla nella vita del del fatto che rimangano svergognati coloro che osano parlare male di noi ma soprattutto l'idea del fatto che la mia capacità di rendere ragione della speranza che è in me è per la crescita dell'altro quando un insegnante quando un educatore propone è qualcosa di cui è autenticamente convinto è chiamato a farlo con una dolcezza e un'amitezza tale da non far sentire uno stupido colui che eventualmente in quel momento non ne fosse ancora convinto proprio perché da un lato la forza della testimonianza ma dall'altro lato la dolcezza dei tratti e dei modi sono assieme le due leve che noi abbiamo in mano per aiutare la persona a crescere e quindi in questo senso la fermezza rispetto a noi stessi la dolcezza rispetto agli altri rappresentano nella prima lettera di pietro che abbiamo letto oggi durante la liturgia un insegnamento straordinariamente profondo e straordinariamente concreto per un educatore e per un insegnante potremmo quasi al termine di una giornata di lavoro utilizzare questi due indicatori per farci un esame di coscienza abbiamo saputo rendere ragione di quello che abbiamo proposto quanto siamo stati dolci miti proattivi nel proporlo ai nostri allievi grazie a tutti